ciao a tutti andiamo a fare questo questo giro di pieghe a questo impasto è un impasto abbastanza idratato superiore al 70 per cento che ottenuto tutta la notte in frigo poi l'ho tirato fuori questa mattina e tenuto a temperatura ambiente almeno due ore lo allargo piano piano delicatamente ok ci sono anche delle bolle e piego queste sono le pieghe a 3 sigillo con la punta delle dita ma molto delicatamente ancora e questo è un giro di pieghe eccolo qua arrotondo un pochino una piccola pirlatina queste queste pieghe e prima di formare il pane le farò per almeno per due volte quindi due giri di pieghe con l'intervallo di mezz'ora dopo di che passato il tempo vado a formare un filone spolvero di farina guardate com'è bello questo impasto ben lievitato allargo ancora ok non so se riuscite a vederle ma ci sono diverse bolle questo perché è un impasto molto idratato bene ora io voglio fare un filone quindi vedete le bolle con le qua quindi o arrotolo in questo senso così piegando man mano fino ad arrivare a formare il filone oppure procedo in questo modo così nel verso della lunghezza piego mano a mano i lembi laterali così stringo leggermente per non rompere le bolle che si sono create ecco qua e questo è il nostro filone sigillo bene la chiusura ed è pronto per metterlo in un cestino e farlo lievitare di nuovo